Fortnite in un minuto? No, fine. Cos'è sta roba? Ah già, cazzo, sono passati dieci stagioni. Ok, iniziamo. Il gioco dispone di tre modalità. Vi ricordate quell'altro gioco dispone sempre di tre modalità? Esatto, League of Legends. Oggi non parleremo di quello. Qua troveremo la modalità salvi il mondo, battaglia reale e la modalità creativa. Anche se queste non la lasceranno mai gratis. Questa la giocano i bambini e questa chi cazzo la gioca? Spawni in una lobby nella quale poi dopo dovrai buttarti da un autobus, cercare armi, cure, scudi, materiale e poi sarai pronto ad uccidere la gente, a meno che. Lo che non ti amazzino all'inizio è come fanno molto diri sempre. Ok, e pensi che il gioco sia solo questo? Sì, invece, sì, è solo questo. Spawni, lutti, muori da capo. 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 Insomma, dopo un po' il gioco diventa ripetitivo e l'unica cosa che lo rende differente dagli altri è la situazione di merda in cui ti mette. E per diventare bravo, devi come minimo sacrificare tutto il tuo portafoglio, tutta la tua mensualità, insomma tutti i tuoi risparmi. E tutto questo per le bellissime skin. Balli, ombrelloni, picconi. Basta, non ce la faccio più, buona. Non ho più un euro.